11, 18, 20, 19, 26, 21 non c'è, adesso lo dependo, posso rubare. Cos'è che fanno adesso? Quindi Tiziana, Claudio, Bruno e Daniele. Giudici, siete pronti? Un secondo. Un applauso per togliere un po' di emozioni, grazie. Musica! Un applauso per togliere un po' di emozioni, grazie. Musica! Vai Claudio! Bridi! Che sei bello! Musica! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.